Era un annuncio che era atteso da tempo, insomma, il fatto che lei ci provasse a questo punto per la terza volta. Sì, potrebbe non apparire come una novità assoluta, ma in realtà era anche fuori dalle mie previsioni. Sapete benissimo che si tratta di una modifica alla legge elettorale per i comuni sotto 15.000 abitanti, Castiglione Fiorentino è un comune per l'appunto sotto 15.000 abitanti, quindi con questa possibilità che c'era di un terzo mandato, non solo con la mia disponibilità e con la mia volontà, ma con una congiunta indicazione da parte del gruppo consigliare, da parte di Libera Castiglione, mi viene proposto, mi è stato proposto di ricandidarmi e ho accettato con un tempo necessario per delle dovute meditazioni, perché è una scelta anche di vita. Io mi candido per provare a vincere per la terza volta, se vinci per la terza volta significa governare il comune non più per 10 ma per 15 anni, e quindi era necessario fare tutto un percorso anche interiore di valutazione. Ecco, mi pare che i partiti che l'hanno sempre sostenuta fino ad ora siano belli e compatti, questo non accade in altri comuni, ad esempio dell'Aretino, e già alcuni suoi avversari si sono palesati. Per quanto riguarda gli avversari saranno tali nel giorno che presenteranno le liste, come del resto farà Libera Castiglione, perché attualmente si parla di un avversario, poi possono essere due, tre, non lo so. Non guardo mai il campo dei avversari, non mi interessa. Invece per quanto riguarda il campo del centro-destra, quindi degli alleati, devo dire che sin dal 2014 il centro-destra ha lasciato ampio spazio di manovra al sottoscritto e alla lista civica Libera Castiglione. Lo ha fatto nel 2019 e lo dovrà rifare nel 2024, perché questo è un percorso, un progetto civico che riguarda l'area del centro-destra, ma non solo coloro che si schierano nel centro-destra, per cui va bene qualunque tipo di suggerimento a Porto, ma il soggetto, il protagonista, si chiama a Castiglione Fiorentino Libera Castiglioni. Ecco, lei ovviamente, come ci siamo detti, ha dieci anni alle spalle. Mi permetto di dire, forse mai nella storia di Castiglione Fiorentino i riflettori sono stati così accesi. Si può fare di meglio? Si può fare di meglio. Talvolta i riflettori si accendono anche perché c'è qualcosa che non va bene. Io devo dire che ho saputo un po' convivere anche con questa attenzione, che un po' ci siamo creati, che un po' evidentemente ho voluto. Di sicuro a termini di questi dieci anni lascio il Comune di Castiglione Fiorentino al nuovo sindaco nella condizione migliore di quella che l'ho trovata io.